Cesare Sassolini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Città di Castello l'ondata delle tasse è arrivata, molte aziende e molti cittadini purtroppo sono alle prese con i versamenti all'erario c'è sempre più la percezione che non ci sia più spazio e non ci sia più possibilità per pagare tutte queste tasse il Comune di Città di Castello attraverso qualche comunicato stampa ha dei dati diversi lei che vive il parlamentino Tifernate, che cosa ne pensa? Che le tasse non sono diminuite, assolutamente, la persona fiscale è uguale se non in aumento questo è chiaro, questo perché i comuni non riescono a chiudere i bilanci in maniera adeguata, lo dicono pure loro in quanto se da una parte è vero che i trasferimenti da parte dei organi superiori sono ridotti notevolmente dall'altra parte è anche vero che i comuni, e questo anche Città di Castello ne è un esempio non hanno ridotto le spese superflue, cioè ci sono spese che vengono continuamente ogni anno prodotte che non portano ricchezza alla città, che potrebbero essere tagliate e che invece vanno a pesare nel bilancio faccio un esempio su tutti, guardi per far capire, siamo riusciti dopo tanto tempo finalmente a fine anno a far chiudere Polisport, battaglio su battaglio finché ci sarà una legge a livello nazionale che dovrà far scegliere ai comuni quale carrozzone, in parole povere, quindi quale partecipate a chiudere e dopo anni, più di dieci anni che io dico che Polisport deve essere chiusa il Comune ha scelto di fermare questa gestione perché rimetteva ogni anno centinaia di migliaia di euro e da una parte quindi si fa una cosa positiva, dall'altra invece si apre un nuovo carrozzone esempio, a Città di Castello non c'era sicuramente necessità di non avere una ulteriore protezione civile Bene, per invece motivi interni, cioè una lotta interna fra dirigenze di protezione civile quella comunale e quelle invece formate liberalmente da altri soggetti si è visto bene di potenziare quella comunale con dei soldi cioè possibilità di acquisto materiali, possibilità di acquisto mezzi, possibilità di acquisto anche divise eccetera, 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 quindi parliamo di decine e decine di migliaia di euro già pronte ad essere spese che non servono perché la protezione civile già esiste ma serve solamente a creare un altro carrozzone e questo solamente per creare che cosa? Un bacino da poter gestire come era Polisport e prima come erano gli indotti che poi alla politica creano comunque consenso allora, mi sembra che questi signori non hanno capito o non intendano comprendere mi sembra un po' come il sistema greco, forse non hanno capito che siamo vicini al baratro se si continua così le tasse non solo non diminueranno ma aumenteranno giocoforza perché se il comune continua a spendere i soldi per crearsi consenso agli amministratori logicamente in questi modi, certamente è una situazione che porterà all'impoverimento generale io continuo a combattere sotto questi aspetti ma vedo che non ci riesco quando vedo a far comprendere queste cose non ci riusciamo perché hanno solamente orecchie per intendere questo perché lo voglio dire chiaramente ai telespettatori perché la classe dirigente amministrativa per gran parte per gran parte è fatta da persone che non lavorano che non hanno lavoro se non attraverso la politica se questi signori dovessero andare a casa gran parte di loro non avrebbero che fare voi, mi rivolgo soprattutto a chi legge questi signori quando andate alle urne guardate chi state leggendo soggetti che una volta perso lo scranno sarebbero persone che girano per la città senza né arte né parte questo non è concepibile che sia il cittadino a mantenere questi soggetti che impoveriscono per stare al potere la città questo è il vero problema Lei sta lanciando accuse pesanti se ne prende tutte le responsabilità consigliere La realtà dei fatti è che si può vedere tranquillamente l'organigramma degli amministratori si può vedere quello che fanno e si potrà notare che ci sono moltissimi soggetti che vivono con la politica a meno che non vengano mantenute le proprie famiglie questo è un sistema che a livello locale rispecchia né più né meno quello che è molto di quello che avviene a livello nazionale con questo non significa essere disonesti è tutto un altro paio di maniche saranno pure persone onestissime nella vita e nel loro modo di essere sta di fatto che quello è il loro modo di intendere la qualità di vita anche personale e di vivere io credo che il politico e qui voglio dirlo chiaramente debba fare un altro mestiere la politica si fa per servizio è un servizio che si fa alla comunità è un servizio che si rende al prossimo non è certo un modo per mantenersi lo dice un consigliere comunale che lo fa da 20 anni e che quando prende molto ok con i gettoni con la partecipazione molto attiva che ho sempre fatto bene arriva a 1800 euro l'ordi all'anno all'anno so traendo tempo al lavoro ma lo faccio per piacere quindi lo posso dire chiaramente lei ha inviato due comunicati stampa uno io cito testualmente quello che lei dice nell'attacco del primo comunicato del 18 giugno con 55 mila euro l'amministrazione comunale pensa di risolvere i problemi dei commercianti tifernati un'elargezione da campagna elettorale anticipata che cosa vuol dire? vuol dire che se si fa l'amministrazione fa un comunicato stampa che intende risolvere i problemi del commercio al centro storico di città di Castello con un bando in cui si allargiscono 55 mila euro per tutti i commercianti del centro storico e in più di questi 55 mila euro possono essere utilizzati dai commercianti solo 2 mila euro a testa per cui io dico al massimo se uno utilizzasse tutti quei soldi potrebbero essere 25 commercianti solamente essere aiutati se questo fosse e dico allora qui siamo o fuori di testa o invece si cerca di far passare fischi per fiaschi facendo credere ai cittadini che si aiuta al commercio con 4 spicciolini che non servono a nulla io dico che invece gli interventi devono essere ben altri cioè quelli che anch'io in campagna elettorale ho più volte detto e ora ritorneremo a un'altra campagna elettorale fra poco cioè quella di abbassare la pressione fiscale dove abbassarla sui costi dell'Imu abbassarla aiutando i commercianti che hanno affitti a pagare meno affitti facendo le convenzioni chi prende dei mutui dei prestiti abbassandogli d'accordo con le banche e le percentuali di interesse aiutandoli anche nell'abbattimento dei costi della nettezza urbana altissima città di Castello quindi si possono usare tantissimi metodi per aiutare i commercianti anche le nuove attività magari per tre anni o per cinque anni quelli che aprono arrivano nuove al centro non farli pagare ma come li fanno per il centro storico a città di Castello anche queste cose devono fare anche per i centri minori esempio Trestina esempio altre frazioni io non capisco tra l'altro perché Trestina è stata dimenticata cioè i commercianti di Trestina loro no però c'è una novità che è l'esenzione della COSAP se i commercianti nel loro interesse decideranno di tenere aperto nei giorni festivi e magari contribuiranno al marketing del comune attraverso la distribuzione di materiale divulgativo beh ci sono delle agevolazioni sì questo sa di ricatto io credo che sia anche ho fatto pure un'interrogazione su questa cosa credo che sia pure illegale perché io non posso dire a un commerciante se tu mi viene anche da sorridere perché è veramente da ridere se tu lasci il bagno del tuo negozio all'uso di tutti i passanti degli avventori di tutti i turisti e in più mi rimani aperto l'80% delle domeniche dell'anno e mi esponi materiale divulgativo per la città io non ti faccio pagare per 35 metri quadrati la COSAP cioè la tassa sul suolo urbano per capirci mi sa tanto di ricatto questa storia e mi sa tanto di grande vantaggio per il comune e di scarsissimo vantaggio per i cittadini cioè io dico al comune ha bisogno di bagni pubblici e città di Castello ce ne è bisogno te li costruisci te li fai magari te li metti a gettone ti rientra pure qualcosa come nelle grandi città ma non costringi in cambio di uno sconto ai commercianti a tenere aperti i bagni per la città cioè questo è un servizio pubblico non è un servizio di un privato è una cosa grave questa che è avvenuta anche in questo caso noi diciamo e l'avevamo proposto l'avevo proposto io in campagna elettorale l'altra volta si può togliere fare le persone serie togliere la cosa l'occupazione del suolo pubblico tra l'altro sarebbero pochissimi migliaia di euro che non entrerebbero nelle casse comunali perché purtroppo anche il commercio è sempre più devastato quindi i locali sono sempre più piccoli i commercianti sono sempre di meno purtroppo quindi le entrate sarebbero veramente poche a diminuire quindi sarebbe una bassissima cifra dico allora togliamo definitivamente la COSAP diamo una mano ai commercianti e lasciamo liberi di lavorare tra l'altro dire anche come dice il comune ti faccio lo sconto se mi tieni aperto l'80% delle domeniche beh non è nemmeno carino e corretto per coloro che la domenica vogliono stare con la propria famiglia per coloro che sono abituati a santificare la domenica perché ci sono anche persone che vogliono andare a pregare in chiesa piuttosto che vogliono come dice il Vangelo e la Bibbia non lavorare la domenica il settimo giorno e questo non rispetto nemmeno per la propria cultura religiosa quindi non so quanto vada bene questo aspetto quindi io dico ci sono molti aspetti sociali economici politici di vario genere che veramente fanno di questa presa di posizione da parte del comune di questa scelta da parte del comune una scelta veramente di poco conto per cui non siamo d'accordo un'ultima cosa il tempo a disposizione è terminato torniamo indietro riavvolgiamo il nastro perché lei dice che le tasse sono aumentate mentre arrivano comunicati che dicono che le tasse sono diminuite questo è il gioco delle parti semplicemente si sa che ribadendo un concetto più volte anche se viene detto il falso si crea comunque nella comunità un po' di confusione faccio un esempio per colui che non sta al commercio per colui che non ha impresa per colui che magari vive di pensione e basta si rende conto che la pensione non è aumentata ma è diminuita magari perché non gli hanno dato gli aumenti poi si scopre che non si poteva fare ma non se la prende con il comune perché le tasse magari sono aumentate perché non ha una vita sociale attiva sul settore commercio sul settore imprenditoria quindi può credere ad un'amministrazione che dice che le tasse non le aumenta dall'altra parte però c'è il commerciante invece che se ne rende conto perché lo vede anno su anno che la tassazione a persone fiscali certamente non è diminuita in alcuni casi è aumentata anche di molto per cui ripeto si parla di propaganda se si prende i numeri e si guardano le cose in realtà si noterà ripeto che nella stragrande maggioranza dei casi non è diminuita e in molti casi è aumentata per esempio il ricalcolo dell'Imo e della Tasi ha portato a una grandissima confusione anche lì andrebbe rivisto per cui ci sono soggetti che pagano uguale e soggetti che pagano di più perché è stata rivista anche la metratura ma ci sono stati anche fatti poi controlli e recuperi crediti su situazioni pregresse che non erano adeguate che fanno aumentare ancora il gettito grazie a tutti